Partiamo da quella che per te è la prima bella notizia, ovvero il ritorno al gol. Quanto sei contento? No, no, al di là del gol contento perché credo che anche oggi abbiamo fatto una buona prestazione. Sicuramente non siamo riusciti a fare come sabato contro Catania, ma abbiamo dimostrato un'altra volta che ce la giocaremo con tutti quest'anno. Ecco, come il mister ha detto più volte in ritiro quando arrivavano le vittorie, non è il risultato che conta, ma le prestazioni. La prestazione del Novara possiamo dire ci soddisfia a metà, esattamente come il risultato? Sì, sicuramente. In queste partite dobbiamo pensare a giocare, a cercare di trovare il ritmo giusto, quindi il risultato è una conseguenza della prestazione. Oggi purtroppo abbiamo fatto una prestazione, ha vinto il Torino, ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto noi. Ecco, ti chiedo a che punto è l'intesa tra i reparti, tra il reparto d'attacco nella fattispecie, visto che ci giochi? No, bene, bene. Stiamo lavorando molto e ci stiamo trovando anche bene. Oggi ha toccato a Rafa, a Gian Mario, quindi siamo molto contenti. Sabato ha giocato Gian Mario, dopo Libertà si sono ragazzini nuovi con Manconi e Filippo, quindi siamo molto contenti e continuiamo a lavorare tutti insieme. È un tema vecchio, ma fino a un certo punto il calendario. Ti chiedo un commento come abbiamo fatto con i tuoi compagni, almeno per quanto riguarda la partenza, subito su un campo caldo come Avellino. Sì, bene, sicuramente troveremo un clima molto speciale per loro, perché sicuramente la prima partita in casa sarà molto importante, ma dobbiamo giocare con tutti in tutti i campi, quindi per noi giocare a Novara fuori sarà lo stesso, dobbiamo cercare sempre tre punti e giocare sempre a calcio. Grazie. Grazie.